Diciamo che la legge di stabilità non cambia assolutamente la situazione, è che la situazione sull'economia reale è disastrosa e per questo motivo serve una netta inversione di tendenza incidere sulla spesa veramente, introducendo fabbisogni e costi standard, riducendo le imposte, dando la possibilità alle imprese di poter lavorare e creando quindi ancora lavoro, perché è questo quello che manca veramente in questo paese in questo momento.